Se Floro Flores sembrava aver chiuso ogni possibilità all'Arezzo negando che ci fossero state offerte da parte della società Maranto, il suo agente, l'avvocato Foglia Manzillo, ammette invece i contatti nella persona del direttore Pieroni e rivela che è in corso una riflessione. Dunque la strada verso Arezzo non sembra essere sbarrata. Non mi sento di negare i contatti, vabbè tanto ormai sono di dominio pubblico, è chiaro che ci sono stati dei contatti tra noi inturaci del calciatore e l'Arezzo, la persona del direttore. Chiaramente è una fase adesso di riflessione, insieme con il calciatore stiamo un attimo valutando le varie opportunità lavorative che possono essere adesso ultimate e vediamo un attimino, sicuramente a breve si deciderà. Quindi ancora non è chiusa come ipotesi? È sicuramente una possibilità, c'è qualche società anche di categoria superiore, però insomma vediamo, siamo ripeto in una fase di riflessione, stiamo valutando.